Ciao anime belle, eccoci finalmente arrivati al tanto atteso stellometro dell'estate. Sei pronto per scoprire la tua posizione in classifica? Ciao, io sono Danilo e sono uno spiritual coach. Se mi segui da un po' di tempo qui su AnimaTV e sui miei canali social, tra cui Facebook è il più importante, sai che a me piace definirmi un allenatore di felicità. È quello che infatti faccio ormai da anni con i miei clienti. Aiutarli attraverso l'analisi energetica del proprio tema natale e poi attraverso molti altri strumenti simbolici e spirituali, come i tarocchi, a riconoscere i propri talenti interiori e soprattutto a concretizzarli nella propria vita quotidiana. Questa, come sai, proprio è la differenza fondamentale tra chi come operatore olistico si pone nell'approccio del coaching e chi invece giustamente sceglie altre metodologie di approccio. Il coaching è un allenatore che aiuta il proprio cliente a, prima di tutto, riconoscere un obiettivo e poi a realizzarlo concretamente, altrimenti, come immagini, questo allenatore, diciamo così, non raggiungerebbe il proprio risultato. Cosa vuol dire farlo con il tema natale? Vuol dire avere la credenza, non che esistano cose magiche, cose per forza legate alla superstizione o tutto ciò, questo fa più parte dell'astrologia tradizionale che, come sai, non è quella che seguo io, mentre invece un approccio di coaching al tema natale aiuta ognuno di noi a farsi carico del proprio destino, a dire questa è la mia vita, io sono io, la mia volontà ha la capacità di dare la mano al destino. Ecco, questa è un'espressione che a me piace molto perché riconosce l'importanza di tutte e due le volontà. La volontà individuale di Danilo è la volontà individuale di te che mi ascolti e la volontà, in questo caso non individuale, ma superiore di quello che potremmo chiamare l'universo. Ognuno di noi, io Danilo in quanto me stesso e tu in quanto individuo che vive in questa totalità, abbiamo da un lato una nostra volontà individuale e dall'altra se abbiamo un minimo di competenze spirituali, se abbiamo un minimo di fede del fatto che questo universo segua delle leggi che sono comuni per tutti, ecco, con questo tipo di credenza che è l'unica che ci vuole per fare astro coaching e spiritual coaching, io posso decidere di usare la mia volontà per allinearla sempre di più a quella dell'universo. In questo video oroscopo dell'estate ho deciso di non raccontarti altri aspetti del mio lavoro e se lo vorrai fare puoi andare a recuperare sempre nei miei canali e all'interno del canale di AnimaTV tutte le pillole precedenti, troverai anche proprio una micro lezione che aiuta ognuno di voi a diventare esperto in qualche modo di questo linguaggio almeno per quello che riguarda la lettura personalizzata dell'oroscopo che invece come sai ha una natura collettiva proprio perché il periodo in cui ci troviamo, quello dominato nella sua fase centrale dall'energia del leone e che noi giustamente in italiano chiamiamo estate è un periodo nel quale probabilmente l'approfondimento non è il punto centrale perché ciò che tutti noi desideriamo soprattutto in un periodo come questo nel quale certamente le criticità per molti di noi sono state più grandi che le facilitazioni ecco, quasi tutti noi credo abbiamo proprio voglia di spensieratezza, di distrazione e anche di leggerezza. quello che ci tengo semplicemente a ricordarti è che un'analisi un po' più approfondita dell'oroscopo e anche di quello generale ti richiede solo di non credere che tu sia legato esclusivamente al famoso segno in cui tu sei nato ma di allargare un po' di più la conoscenza del tuo tema natale in modo di poter cogliere più opportunità di felicità e allo stesso tempo anche di cogliere in modo anticipato di prevedere aspetto molto importante della vita eventuali teoriche criticità che proprio perché tu saprai prevedere potrai in qualche modo addirittura superare addirittura fare in modo di allineare quella tua volontà individuale con quella dell'universo per chiedere in qualche modo da un punto di vista energetico all'universo che quelle criticità non avvengano nella tua vita reale ancora di più quindi in questa occasione ti chiedo di ricordarti semplicemente che qualunque oroscopo generale e quindi anche il mio che fa del suo meglio per differenziarsi da quelli della maggioranza non può che essere visto come un gioco e non può che essere visto come qualcosa che può parlare anche di me ma può allo stesso tempo non avere niente a che fare con me anche se io sto ascoltando, sto leggendo la descrizione che Danilo o un collega farà del mese astrologico in cui io sono nato oppure della luna del mio tema natale o di qualche altra cosa che riguarda me ricordiamoci sempre che in questo pianeta siamo 8 miliardi e quindi io che reputo che ognuno di noi abbia un'intelligenza tale da comprendere bene il significato della totalità dell'universo e del nostro rapporto con questa totalità ecco credo che chiunque di noi da solo possa rendersi conto come sia assolutamente impossibile che qualcuno parli di una predisposizione energetica del segno dell'ariete, del leone, della vergine o dello scorpione considerando che quello possa avere un'applicazione identica per tutti gli esseri umani legati a quell'energia sul pianeta terra e per di più per gli uomini come per le donne per un ragazzo giovane come per una signora più matura per un abitante dell'Alaska come per un abitante del Sudafrica quindi con queste poche parole anche in questa occasione io voglio sempre ricordare i miei ascoltatori e chi diventa poi di voi mio cliente lo tocca con mano nel momento in cui usciamo dalla visione generale dell'astrologia ed entriamo nell'unica che conta che è quella particolare del proprio personale tema natale come questo linguaggio astrologico sia davvero magico se oggi nel 2021 viene legato ad un approccio individuale delle proprie caratteristiche psicologiche personali partiamo adesso con il gioco della classifica è quello che io ti ricordo di fare proprio prima di poi ascoltare le 12 posizioni è di prendere in mano il tuo tema natale se già lo conosci se è la prima volta che ti viene la curiosità di conoscere il tuo tema natale al momento lo puoi fare anche in modo del tutto autonomo io ti consiglio semplicemente di usare il sito internet più appropriato per la generazione di un tema natale che abbia anche questa valenza psicologica questo sito internet si chiama astro.com tu ti puoi registrare la registrazione è gratuita puoi inserire i tuoi dati quelli di amici, familiari, amanti che poi è la cosa che a tutti noi piace di più inserire per spiare e prevedere se l'uomo o la donna che mi piacciono veramente mi amano o meno comunque al di là delle battute diciamo all'interno di questo sito una volta che tu diventerai familiare con il suo funzionamento sono sicuro che dopo che avrai inserito i tuoi dati ti verrà voglia di inserire anche quelli di altre figure che conosci perché è veramente di gestione facilissima una volta che tu hai inserito i dati con ovviamente giorno, mese, anno, località e poi se la conosci anche l'ora di nascita tu vedrai questo tema natale tanto noi adesso nel video vedremo come è la forma del tema natale proprio tra pochi minuti e quello che io ti ricordo è sempre di andare a individuare se già non le conosci almeno queste tre energie quella del tuo famoso segno di nascita che è legata al simbolo del sole e poi l'energia della tua luna facilissimamente identificabile nel tema natale e l'energia del tuo ascendente l'ascendente a differenza dei simboli planetari è rappresentato da un numero e non appunto da un tra virgolette pianetino il numero che rappresenta l'ascendente è il numero 1 proprio perché ecco qui già ti do un minimo di concetto psicologico e l'ascendente rappresenta in italiano momento del primo respiro quindi dove tu vedi il numero 1 ci sarà abbinata una costellazione zodiacale e quella lì sarà l'energia che ha dipinto che ha colorato che ha connaturato il tuo primo respiro e siccome di numeri 1 ce n'è solo uno perché poi tutti gli altri vengono dopo come immagini il colore del tuo primo respiro ha una grande importanza nella definizione della nostra personalità almeno da un punto di vista teorico ricordiamoci allora che mentre noi guardando le previsioni solo del mio segno di nascita siamo poi obbligati ad usarle per qualunque ambito nella vita nel momento in cui tu almeno andrei a guardare queste tre energie potrai differenziare la lettura o l'ascolto delle previsioni in modo più significativo per te e quindi quando andrai a leggere ciò che riguarda l'energia del tuo numero 1 e quindi del tuo ascendente arriverai a scoprire elementi che hanno più a che fare con la tua vita reale quotidiana quando ti riferirai all'energia della tua luna parleremo sinteticamente di amore ed emozioni e fattori interiori e a questo punto solo alla fine quando poi leggerai l'energia del tuo mese di nascita ci riferiremo ai grandi obiettivi della tua vita e da un punto di vista più concreto tutto ciò che è più legato agli aspetti professionali della tua vita vedi che già con queste brevissime istruzioni la lettura cambia perché qualcuno potrebbe tra virgolette azzeccare una cosa che riguarda la tua luna ma che non c'entra niente con gli aspetti tuoi più maschili e più professionali della vita legati per esempio al sole in questo momento appare sotto i tuoi occhi il disegno del cielo che ha dato inizio al mese centrale almeno nel calendario zodiacale della nostra estate dell'emisfero nord quello in cui viviamo immagino io e tutti voi che mi state ascoltando almeno nella stragrande maggioranza l'inizio del mese leone quest'anno cade il 22 luglio e precisamente alle 17 circa di questo pomeriggio quindi guardiamo insieme questo disegno come vedi questo noi lo potremmo chiamare un tema natale del giorno che poi ha la stessa forma di quello che sarà il tuo tema natale individuale se per esempio questa è la prima occasione nella quale tu hai deciso di ricercarlo all'interno di astro.com quindi ti guido subito negli elementi essenziali se tu guardi con gli occhi verso l'alto in direzione destra troverai vicino allo spicchio numero 8 troverai proprio il nostro simbolo del sole come vedi all'inizio precisamente al primissimo grado della costellazione leone questa è la simbologia grafica che rappresenta il fatto che il mese centrale dell'estate quello che noi chiamiamo leone è appunto appena iniziato allora per capire quale sarà il contesto energetico che tu vivrai in questo periodo qui abbiamo una fotografia che giustamente rende fermo è un flash di questo istante e poi da qui alle settimane successive tutti quelli che io chiamo questi simboletti planetari si muoveranno nel cielo e dentro di te lo stellometro in questa occasione estiva nella quale avremo la pausa di agosto durerà due mesi quindi durerà per tutto il mese leone e per tutto il mese virgo quindi l'importante è che noi vediamo al momento quali sono le energie dominanti e come si possano muovere nelle prossime settimane come vedi questa fase che noi stiamo studiando nel suo giorno di start ha un accumulo vedi di energie leone perché oltre al sole abbiamo anche il simbolo di Marte e poi a livello di energie veloci quelle che in qualche modo possono rappresentare per sincronicità qualcosa che riguarda anche la mia vita personale quotidiana abbiamo il simbolo di Mercurio nell'energia del granchio e subito dopo Marte ancora molto vicino abbiamo il simbolo della nostra dea dell'amore della bellezza venere esattamente all'inizio della costellazione virgo come sai poi il mese che succede il leone è proprio quello della virgo e qui poi anche tra pochissimo il simbolo di Marte dal leone si sposterà nella virgo è la stessa cosa il simbolo di Mercurio tra pochi giorni si sposterà nel leone e quindi potremmo dire proprio che questo stellometro che si occupa del mese leone del mese virgo ha contestualmente anche proprio le energie che domineranno questo periodo che saranno prima quella leone e poi quella virgo ma potremmo dire anche in successione tra di loro proprio perché questa venere che si trova già nella virgo sarà poi accompagnata tra poco così come succede nel mito olimpico dove venere e Marte sono amanti ecco loro lo diventeranno nuovamente tra qualche giorno all'interno dell'energia vergine il granchio invece perderà mercurio e non acquisterà nei prossimi due mesi nessun'altra energia quindi da questo capiamo subito che chi di voi ha scoperto di avere un tema natale con molte energie leone e o virgo potremmo capire immediatamente che forse ecco adesso lasciamo ancora un po' di dubbio prima di scoprirlo poi con l'andamento della classifica è probabile che siano i due tipi psicologici più favoriti a vivere facilitazioni in questo periodo in questa estate 2021 concluse le premesse eccoci arrivate all'inizio della nostra classifica delle 12 energie per l'estate 2021 tema natale alla mano partiamo con l'energia che nei miei studi io posizionerei al gradino 12 di questa classifica solo in questo caso ci tengo a fare ancora una mini premessa dicendo che ovviamente questo non vuol dire che l'energia che adesso domineremo è tra virgolette l'energia più sfigata dell'estate assolutamente no come voi sapete questo non è il mio approccio ma ci tengo ogni volta a ricordarlo perché poi noi vediamo o ascoltiamo queste classifiche per gioco ma poi vediamo che la nostra energia dominante è tra virgolette negli ultimi posti e diciamo subito ah facevo prima non sentirla perché questo qui porta sfiga allora ragazzi è chiaro che se facciamo un gioco delle classifiche una volta erano molto famose le classifiche delle vendite dei dischi adesso non sono più famose perché i dischi e i cd non esistono più ma in qualche modo è chiaro che nella classifica della top 10 non potevano essere tutti al primo posto qualcuno era al decimo posto qualcuno era al primo qui abbiamo la top 12 e quindi qualcuno dovrà per forza essere anche in posizioni che non sono quelle del podio ma io direi che proprio l'approccio del coaching ama ancora di più aiuta ancora di più e sostiene ancora di più chi in un periodo minimo della sua vita in questo caso stiamo parlando veramente di un intramuscolo temporale come sono due mesi potrebbe ti ricordo di pensare tutto col periodo ipotetico magari non succeda assolutamente niente di quello che ipotizziamo ma noi qui diciamo c'è una probabilità che ci siano come ovvio in un periodo alcune energie più favorite e altre meno favorite ok quindi qui noi in questo caso abbiamo che al dodicesimo posto troviamo l'energia dello scorpione per quale motivo l'energia dello scorpione in teoria potrebbe essere un po' meno favorita e beh la prima cosa è ovvia proprio l'energia del leone rappresenta la luminosità assoluta il sole dell'estate il mare il caldo la mancanza assoluta di privacy perché noi siamo mezzi nudi in spiaggia o addirittura se a te piace il nudismo siamo completamente nudi in una spiaggia particolare dedicata a chi ama il naturismo e ovviamente io ti dico queste cose da un punto di vista simbolico non dobbiamo per forza andare né al mare né a fare i nudisti però questi sono i simboli che rappresentano al meglio e per di più nella modalità più facile e più immediata significati anche molto più profondi dell'estate psicologicamente parlando e dell'energia del leone lo scorpio è esattamente l'opposto il leone è il giorno e lo scorpio è la notte il leone è la luce e lo scorpio è la mancanza di luce è l'ombra è il buio addirittura quindi semplicemente proprio ogni anno perché questa è una cosa che capita sempre ricordiamoci che lo zodiaco è una ruota è una ruota che divide l'anno in 12 parti ma una volta che finisce l'anno questo anno diviso sempre nelle stesse 12 parti si ripete più o meno uguale a se stesso quindi l'energia del leone e l'energia dello scorpio si stanno naturalmente antipatiche da un punto di vista proprio teorico poi questo non vuol dire che nella vita reale due figure dominate da queste energie non possono andare d'accordo anzi come dicono i proverbi gli opposti si attraggono potrebbero proprio creare le coppie migliori e che si eccitano di più tra di loro proprio per l'attrazione delle loro diversità qui noi semplicemente diciamo che questo è un periodo naturalmente non affine a un tipo scorpio soprattutto se tu rientri in un tipo scorpio tradizionale che fa della privacy che fa dell'intimità che fa di tutta una questione legata alle profondità e quindi non all'allegria superficiale che per lo scorpio potrebbe essere un meno del leone le proprie caratteristiche quindi è proprio una questione generale che si ripete ogni anno ecco qui nello specifico abbiamo di più invece ma questa è una questione che ti ho già raccontato nell'oroscopo dell'anno quindi tu lo sai che questo 2021 in generale sempre solo sulla carta era un anno che per te partiva più critico soprattutto potremmo dire perché in questo anno dove giove il portafortuna dello zodiaco per la maggioranza dei mesi si va a trovare nell'altra energia a te distante che quella dell'acquario ecco certo vedi abbiamo due cose che si mettono insieme il nostro famoso giove che potrebbe essere un aiutante quando è amico e il contrario quando non lo è si trova in un'energia per te non amica per quasi tutto l'anno per di più ci troviamo in uno dei mesi proprio di calendario zodiacale che a te non è a fine quindi quello che potremmo dire quest'anno è di stare un po' più attento a questo periodo estivo in questo caso addirittura ti direi soprattutto per il mese leone perché poi il mese virgo diventa già più neutrale e quindi stai un po' più attento a tutto ciò che potrebbe volerti portare fuori dal tuo guscio perché questo potrebbe anche diventare un grande aiuto perché per te uscire fuori dal tuo guscio è un grande più l'importante è che tu lo faccia in modo consapevole che tu lo faccia sapendo che desideri farlo e ti direi soprattutto che tu lo faccia con le figure con cui davvero lo vuoi fare saliamo di una posizione arriviamo al gradino 11 della nostra classifica dove troviamo l'energia pesci ecco qui prima di tutto voglio dirti che all'interno di questo 2021 che per te aveva diciamo così un'importanza non al top perché le energie dominanti di questo 2021 sono diverse dalla tua tu però hai vissuto un inizio d'estate che almeno sulla carta ti era molto favorevole perché questo giove ballerino che nel 2021 stava ballando proprio tra la costellazione acquario di quella pesci aveva deciso a cavallo proprio dall'inizio dell'estate di venirti a trovare come una specie di trailer di un film che dovrebbe poi essere a te molto favorevole che ricomincerà però poi nel 2022 questo momento di anticipo di grande fortuna gioviale in qualche modo adesso che ci parliamo è già agli sgoccioli perché è durato più o meno due mesi quindi io ti direi il bello di questa estate in teoria per te dovrebbe già essere avvenuto allo stesso tempo adesso qui io non è che ti dico che ti debbano succedere chissà quali grandi cose tra virgolette negative a differenza di quello che abbiamo detto per il caso Scorpio in realtà io ti posso dire che poi il mese leone per te potrebbe essere tendenzialmente neutrale certo che invece poi man mano ci avviciniamo all'inizio del mese virgo che è facilissimo da capire per quale motivo a te potrebbe non piacere perché ti è opposto guarda qualunque tema natale proprio nella struttura del tema natale tu sai che il tuo mese è febbraio marzo il mese della virgo è agosto settembre i vostri due mesi sono agli antipodi all'interno del calendario zodiacale e quindi è chiaro che ogni volta anche qui per te è una ricorrenza annuale ogni volta che tu ti trovi con una dominante energetica che è opposta alla tua sempre se tu hai scoperto di avere una dominante pesci è abbastanza facile comprendere che almeno a livello teorico non possiamo pensare che quello sia proprio il tuo periodo top potresti incorrere in alcune avversità qui quali sono le energie più virgo in questo periodo come ti ho detto prima sono quelle di venere e di marte che rappresentano a livello simbolico i due amanti olimpici quindi io il primo riferimento che ti farei è proprio alla tua vita relazionale anche qui noi prima di tutto dovremmo vedere le tue specificità se tu sei felicemente single tu sei felicemente in coppia per quale motivo proprio a te dovrebbe capitare qualcosa tra virgolette di brutto perché abbiamo questo venere questo marte contrari ecco vedi qui c'è proprio la grande differenza per me tra chi segue un'astrologia determinista che dice quei due sono contrari e quindi ti deve per forza capitare qualcosa e chi come me invece tra virgolette ti vuole allenare a prevedere alcune eventualità allora noi adesso stiamo prevedendo che sulla carta ci sia questa possibilità io però certamente ti direi allenati di più per gestirla al meglio se tu sai di essere quelle che addirittura su facebook si chiamano relazioni complicate ecco se tu ti trovi in questa situazione dici ecco Danilo adesso mi ha detto che proprio in questo periodo estivo io avrò i simboli relazionali che graficamente mi sono contrari questo cosa vorrà dire per me a cosa devo stare attento il punto per me è semplicemente questo fatti delle domande sull'argomento in qualche modo trova delle risposte da solo con gli amici e nel caso in cui tu ti renda proprio conto che questo riguarda te potrai trovarle anche con me studiando più in dettaglio il tuo tema natale in un colloquio individuale dove andremo a capire per quale motivo in questo periodo l'universo ha deciso di darti questa lezione in ambito relazionale sapendo che non è detto che questo avvenga abbiamo poi giustamente l'inizio del mese virgo che rientra in una questione come sappiamo che c'è tutti gli anni e quindi per gioco ti direi se tu rientri nell'identikit più classico del tipo psicologico pesci che noi per simpatia chiamiamo lo svampi dello zodiaco certo che quando arriva il mese della virgo che sempre per simpatia chiamiamo un po' la signorina rottermeier dello zodiaco potresti avere qualcuno potresti proiettare in qualche figura esterna oppure anche a te stesso ti potresti fare delle domande più severe del solito per tentare di mettere in ordine quel caos interiore ed esteriore nel quale tu spesso ti ritrovi a vivere se questo dovesse succedere per te in realtà sarebbe un gran bene certo che però se a te proprio queste cose questo approccio alla vita più ordinato più standardizzato più lineare non piace per nulla ecco che allora potrebbero nascere alcune tensioni magari anche solo micro nella tua vita quotidiana eccoci arrivati alla posizione numero 10 dove troviamo l'energia del sagittario qui veramente il discorso andrebbe proprio diviso in due perché immagino che se tu sei legato al sagittario già sappia che nel linguaggio astrologico tradizionale la tua energia fa parte del famoso elemento fuoco esattamente come l'energia del mese leone che abbiamo inaugurato appunto il 22 luglio quindi in realtà per te l'estate tendenzialmente è un periodo favorevole proprio perché leone e sagittario sono molto amici quindi da questo punto di vista qui tutto bene è il divertimento l'allegria il gioco l'avventura sempre in questo caso limitato agli aerei o alle varie quarantene che si possono fare o che ci obbligano a fare in questo periodo di pandemia dovrebbero essere assicurati qui il dubbio è semplicemente legato a questo accumulo di energie virgo che sempre di più noi andiamo avanti in quest'estate diciamo sempre di più l'estate lascerà il passo all'autunno e diventeranno importanti consideriamo che invece già adesso già nel mese leone abbiamo il simbolo relazionale per eccellenza venere che si trova proprio in questa energia virgo e io in sintesi con i tempi che abbiamo qui ti posso proprio dire che il famoso normalizzatore e regolatore della virgo è molto distante dalla tua personalità da quella dei pesci che hanno molte cose in comune soprattutto nel desiderare vivere un'esistenza legata al sogno alla visione e delle volte anche all'illusione a un'illusione che però tu ami credere sia realtà ecco molte volte la realtà del tipo sagittario è l'illusione mentre invece addirittura per opposizione diciamo che la realtà del tipo virgo è l'iperrealismo e quindi capisci bene che ogni volta che nell'anno tu vivi un accumulo di energie che ti vogliono spingere o addirittura ti vorrebbero obbligare a essere iperrealista se tu fai parte di quei sagittario che invece sono molto legati alla loro natura originale quindi sono molto al contrario di tutto ciò e tu potresti vivere in qualche modo un profondo scontro tra una dimensione intuitiva e visionaria e una dimensione che invece ti richiama al principio di realtà e agli obblighi di questa realtà che con la tua natura tu ogni tanto potresti far finta di non vedere diciamo che molte volte questo ti aiuta a vivere una vita tra virgolette fortunata perché tu non vedendo i limiti della realtà crei possibilità infinite questa è una grande legge per esempio dell'imprenditoria di cui tu sei uno dei maggiori rappresentanti almeno da un punto di vista teorico è anche vero che però se prendiamo sempre la metafora dell'imprenditore che si illude di non avere acceso 35 prestiti con 35 banche diverse dicendo che tanto poi prima o poi tutti questi prestiti scompariranno da soli il giorno che invece le banche che sono un concetto molto virgo incominciano a dirgli guarda che tu mi devi dare indietro i soldi ecco lì poi il castello di sabbia della mia azienda che io credevo fosse solido invece poi si rivela in quanto tale e tutto potrebbe in qualche modo crollare da un momento all'altro quindi considera che questo è un periodo dell'anno nel quale l'universo ti vuole allenare non ovviamente a diventare una virgo perché se no non saresti legato al sacitario ma ti vuole semplicemente allenare a ricordarti che la vita viene vissuta molto meglio quando io riesco a mettere insieme e cioè ad equilibrare uno sguardo che nutre anche il sogno cioè il sagitario con un approccio che però si ricorda che anche tu sei incarnato e che la legge della realtà anche solo per esempio quando vai a fare la spesa al supermercato è fondamentale rispettarla arrivando arrivando alla posizione numero 9 troviamo i gemelli cioè l'energia gemelli io qui ti posso dire se non l'hai fatto l'hai saltato con l'indice di ascoltare anche quello che ho appena detto proprio sul sagitario se invece l'hai già appena ascoltato io ti posso dire che se anche per motivi completamente diversi e voi due vi trovate nella stessa situazione il motivo molto diverso è che in realtà l'energia gemelli è già un'energia ordinatrice quindi è un'energia che potremmo dire è capace a fare 2 più 2 ecco i gemelli sanno che 2 più 2 fa 4 mentre invece il sagitario tra virgolette potrebbe anche volere che facesse 5 o 3 però poi qual è la questione che anche tu gemelli in qualche modo hai piacere di vivere una vita dove una volta che le cose sono state messe in ordine ecco questo ordine può essere gestito può essere guardato con uno sguardo più leggero diciamo così un po' più di sguincio soprattutto perché tu hai bisogno di andare alla ricerca costantemente di nuove cose da mettere in ordine di nuovi dati di nuove informazioni di nuovi esseri umani ecco ami la superficie ami volare come io chiamo il tipo gemelli come un'ape maia in un grande giardino ricco di fiori e per cui tu ti dici ma per quale motivo devo stare così tanto fermo su questa rosa seppur molto bella se di là vedo che c'è un tulipano c'è un'orchidea che mi attirano lo sguardo e che mi piacciono ancora di più semplicemente perché rappresentano un nuovo dato che poi dopo posso mettere in ordine l'energia della virgo non dice questo l'energia della virgo ti dice se ti sei comprato un libro che parla di come coltivare le rose fino a quando tu non impari a coltivare le rose praticamente realmente classica parola virgo nel migliore dei modi possibili non puoi imparare a coltivare i tulipani e tu davanti a questa frase gli vorresti anche fare un bel gesto dell'ombrello e dire ma senti virgo fatti un po' i fatti tuoi che io invece mi faccio i miei e cioè svolazzo un po' di più nel giardino dell'opportunità della vita mentre invece tu ti ho trovato un anno fa che stavi lì e ritorno dopo un anno sei ancora lì come sempre ogni energia ha il suo in più e il suo in meno non è che c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata ecco qui semplicemente anche nel tuo caso appunto il mese leone è più neutrale mentre invece il periodo in cui le energie virgo diventeranno sempre più intense ecco qualche richiamo a una realtà più stringente potresti averla e anche qui ti ricordo che già oggi venere in qualche modo ti è disarmonica e quindi il discorso relazionale che ho già fatto per varie energie vale anche per te e se c'è qualcosa che non torna nella tua vita relazionale soprattutto in quelli che sono i tuoi partner sessual sentimentali ma potremmo anche dire nei relazioni generalmente parlando ecco allora lì probabilmente un qualche allenamento per gestirle meglio di come lo stai facendo è arrivato il momento di concretizzarlo eccoci arrivati alla posizione 8 che è quella dell'energia toro qui dovrei farti un discorso più tecnico perché in realtà potrei dirti che in quest'estate tu hai veramente un boom energetico quindi già solo perché il boom energetico potrebbe essere una cosa bella alle figure a cui piacciono per parlare molto chic i grandi casini perché il boom potrebbe anche essere vissuto come un continuo muoversi di energie favorevoli e contrarie che mi sballottolano un po' chi ama gli sballottolamenti potrebbe essere al topo della felicità qui però parliamo di te diciamo di una dominante toro che come sappiamo in realtà sempre a livello teorico non solo non li ama ma addirittura potrebbe proprio tra virgolette detestarli gli sballottolamenti tanto che il tipo toro già che parliamo di estate è quello che più classicamente potrebbe trovare una casetta di villeggiatura in mare in montagna in campagna che gli piace quando più o meno ha 20 anni e noi se poi fotografassimo la sua vita lo troviamo a 65 che nelle stesse settimane continua ad andare nella stessa casetta che gli piaceva 45 anni prima quindi essendo tu proprio l'energia della continuità e del mantenimento dello status quo trovarti in un periodo come quello di quest'estate 2021 dove invece la cosa più bella che ti potrebbe arrivare è questo casino energetico in senso positive del termine ecco per te probabilmente la dimensione positive del termine non è tanto visibile ed è più visibile l'altra quindi io qui di nuovo dico sempre la stessa cosa dato che di tipi psicologici toro nel mondo ce ne sono milioni io non sono un veggente non potrò mai sapere se tu sei un toro iper tradizionalista e cioè iper conservatore o sei un toro diciamo già di tuo un po' più sbarellato un po' più simpaticamente diciamo così fuori dalle regole se tu ti riconosci facente parte della seconda categoria che ho detto allora addirittura quest'estate per te potrebbe essere veramente molto divertente tanti cose diverse anche tanti imprevisti che però ti divertono eccetera se invece fai parte ma io dico anche giustamente della categoria più tradizionale di tipi toro ecco qui bisognerà vedere come tu accoglierai alcuni imprevisti magari anche delle piccolissime cose ma tu che veramente sei abituato sempre in questa metafora ad andare a prendere il gelato sempre nella stessa gelateria a scegliere magari all'interno di tre gusti i gusti da mettere nel gelato che vari semplicemente perché un giorno ne metti uno un giorno ne metti l'altro ma i tre gusti devono essere per forza quei tre lì ecco se tu ti ritrovi giustamente in questa visione in questo approccio alle cose addirittura anche dell'estate che già di per sé è la stagione più movimentata dell'anno potresti provare dei fastidi davanti ad alcuni sballottolamenti soprattutto io ti direi più che altro nel mese leone tutto si dovrebbe un po' più calmare quando poi andiamo verso il mese virgo perché qui invece diciamo toro e vergine sono molto affini tutte e due fate parte dell'energia terra e quindi diciamo probabilmente con la fine dell'estate se tu farai delle vacanze più tradizionali a livello di fase temporale diciamo con il settembre classico della virgo dove tutti ritorniamo alle attività ordinarie potresti ritrovare la pace perduta o semplicemente potresti dire ah che bello si ritorna a casa e tutto ritorna regolare normale come prima arriviamo alla posizione 7 dove abbiamo l'energia dell'acquario bene qui spiegarti perché tu non sei nelle posizioni alte di questa classifica estiva è abbastanza facile di nuovo ricorrendo alla metafora del calendario zodiacale il mese leone nel calendario è esattamente opposto al tuo tu sei il signore dell'inverno il leone è la divinità è Apollo che lo rappresenta è la divinità dell'estate e quindi è chiaro che proprio i vostri sguardi sono completamente diversi ok nulla di trascendentale perché questo è di nuovo qualcosa che capita ogni anno diciamo poi dovremmo vedere che tipo di acquario tu sia io adesso ti sto dicendo che tu sei il signore dell'inverno e magari mi ascolta qualcuno con una dominante acquario che dice ma cosa sta dicendo Danilo io odio l'inverno odio il freddo d'estate mi sento rinascere e sono felicissimo questo non vuol dire né che tu non abbia ragione perché sicuramente tu hai sempre ragione non vuol dire neanche che quello che ti dico io non sia vero perché noi parliamo da un punto di vista teorico e astratto da questo punto di vista se tu guardi il tuo tema natale non ci sono dubbi che il simbolo del leone sia opposto a quello dell'acquario quindi quando tu ti trovi in un periodo da dominante leone qualcosa che si possa opporre alla tua volontà è più probabile che tu vada a trovarlo poi magari questo non si verifica ma noi sappiamo che in teoria ha semplicemente più probabilità che si possa verificare tendenzialmente al momento se noi volessimo concretizzare un po' questo sguardo gli elementi che ti sono meno favorevoli sono due elementi young maschili e quindi anche legati al lavoro alla professione quindi anche qui io ti dico pensa un po' la tua vita reale come sta andando il lavoro quanto sei realizzato nel tuo lavoro magari non ti dico solo in queste settimane ma nel periodo che ti fa arrivare a quest'estate certamente se c'è qualcosa che secondo te già non va in ambito professionale allora questo sole questo marte che al momento ti sono contrari e potrebbero agire di più però allo stesso tempo io te ne sto parlando tu mi stai ascoltando allora potrebbe partire in te un allenamento a gestire meglio e diversamente questa questione che tu già sai che sia critica se invece nella tua vita al momento va tutto bene il tuo lavoro è ottimo e tu per di più nel mese leone tanto sei in vacanza anche in questo caso puoi fare un bello sberleffo allo zodiaco e dici sai che c'è tra i vali milioni di acquarie che ci sono nel mondo io sono proprio uno di quelli a cui questo ciclo del sole questo ciclo di marte contrario non mi faranno un bel baffo e allora noi siamo contenti e aspetteremo l'anno dopo il 2022 per vedere se di nuovo nel mese leone andrà tutto bene o magari qualche criticità ci sarà nel 2022 quando poi passiamo al mese virgo passiamo invece ad un periodo che a te è più neutrale quindi qui ti direi che ci sono poche cose a cui stare attenti eccoci arrivate alle posizioni alte della nostra classifica quindi superiamo il giro di boa con la posizione numero 6 dove abbiamo l'energia capricorno allora metto te capricorno in questa fase centrale della classifica perché diciamo ti trovi in effetti in una dimensione di neutralità allora soprattutto la prima parte di quest'estate cioè la parte leone tendenzialmente diciamo con te ha un rapporto di neutralità appunto non è un'energia che ti dovrebbe smuovere più di tanto quindi se io se tu non avessi ancora organizzato le vacanze cosa che però ritengo impossibile ma diciamo che se noi ci fossimo parlati in anticipo io ti avrei detto probabilmente di fare del tuo meglio per organizzare qualcosa man mano che il mese leone finisce mentre invece poi le energie virgo diventano importanti nel cielo perché come sappiamo invece l'energia virgo tra tutte le altre energie zodiacali è quelle che più amica la tua natura perché la virgo è efficienza il capricorno è vetta e quindi se mettiamo insieme la virgo il capricorno è raggiungere la vetta in modo efficace ed efficiente poi ognuno decide qual è la sua vetta tendenzialmente quando in un tema natale c'è una dominante capricorno la vetta di quell'uomo di quella donna diventa poi una vetta sociale di ruolo di status e quindi anche professionale reddituale ma poi ognuno di voi può avere la sua vetta quindi questo la decidi tu diciamo che man mano che quest'estate va verso la sua parte conclusiva in te in realtà le energie salgono le quotazioni salgono tutto dovrebbe diventare più armonico e più favorevole e ti direi che quest'estate sembra concentrata sempre se a te questa cosa interessa sugli aspetti relazionali proprio perché già adesso già all'inizio del mese leone hai questa venere molto favorevole tra poco avrai anche un marte che diventa favorevole e dato che loro come abbiamo già ricordato varie volte sono i famosi amanti dell'olimpo nel momento in cui tu cosa che non fai di solito ti apri all'amore in modo un po' più ottimistico e fiducioso da un punto di vista teorico le carte sono a tuo favore poi tu mi dici a me non me ne frega niente di stare in coppia meglio single che male accompagnati chi fa per sé fa per tre e allora ti dico va bene continua con le tue idee nessuno ti può convincere del contrario a meno che l'universo non decida proprio che in questa estate tu debba vivere delle esperienze che ti fanno cambiare questi principi che come sappiamo se diventano principi assolutistici potrebbero non aiutarti nella vita ma non in questo caso perché in generale i principi assoluti non aiutano molto la vita considerando che la vera intelligenza per l'essere umano è quella che noi chiamiamo un'intelligenza adattiva e flessibile saliamo ancora di una posizione arriviamo alla quinta posizione dove troviamo l'energia riete qui abbiamo un discorso esattamente speculare a quello del capricorno perché qui abbiamo quindi partiamo già dalla fine dell'estate cioè dal mese virgo abbiamo una seconda parte dell'estate più neutrale mentre invece abbiamo una prima parte dell'estate cioè quella dominata dal leone molto molto favorevole per di più anche nei giorni precedenti all'inizio del leone Marte che è il tuo angelo custode era già da un po' che si trovava nel leone quindi tu dovresti trovarti in una scia positive che va avanti da qualche settimana precedente all'inizio del mese leone e dovrebbe continuare ancora per un po' quando Marte andrà nella virgo avrai comunque l'aiuto del sole leone che continuerà a fare il suo giro ovviamente fino al 22 23 agosto quindi la parte iniziale per te è la migliore dell'estate in generale non hai energie che ti sono contrarie in modo significativo abbiamo adesso questa questa piccola criticità di Mercurio Granchio che in qualche modo non ti è favorevole sulla carta ma lo considero veramente una piccola cosa e quindi qui poi anche se ovviamente molti miei colleghi ti potrebbero dire 100 miliardi di cose non belle che ti possono capitare io onestamente invece ti dico è impossibile prevedere per milioni di esseri umani cosa possa dire questa contrarietà di Mercurio nel Granchio perché Mercurio è velocissimo impatta su cose della vita quotidiana che possono che variano molto da individuo quindi questo lo potremmo fare semplicemente se io e te ci parlassimo con il tuo tema natale sotto mano è capire questo signore della comunicazione degli affari che è Mercurio se ha impattato sulla tua vita personale il più delle volte non impatta per nulla se non per micro situazioni che durano due o tre giorni quindi direi che non è il caso di soffermarsi su questa piccola criticità iniziale anche perché poi Mercurio è veloce certamente prima della fine dell'estate avrà già fatto anche lui il giro nel leone quindi ti diventerà per la maggioranza dei giorni favorevole eccoci arrivati alla quarta posizione dove troviamo l'energia Granchio barra Cancro se mi segui da tempo sai già che per ovvi motivi non c'è neanche bisogno che stia a sottolinearli preferisco chiamare questa energia con il suo nome che per di più è quello originale e che è anche più simpatico Granchio Granchietto come ancora di più io amo chiamarla dato che questa energia in qualche modo è il simbolo della mammitudine e dell'infanzia e quindi il vezzeggiativo ci sta a pennello rispetto alla parola che si usa solito in italiano che purtroppo ormai ha una connotazione di tutt'altro genere quindi cosa possiamo vedere cosa possiamo anticipare ai nostri Granchietto per la loro estate un'estate rappresentata da due parole che a loro dovrebbero piacere molto serena e tranquilla sempre sulla carta quindi ci tengo sempre a dirlo perché non vorrei che adesso mi ascolti qualcuno che è legato al Granchio a cui è successa una cosa molto importante e non bella a cui è capitata una malattia sua di qualcun altro perché queste cose capitano al di là del nostro tema natale in questa fase qualcuno può perdere il lavoro ovviamente lo può perdere chiunque con chiunque segno zodiacale chiunque può vivere una malattia eccetera quindi queste cose qui vi ricordo sempre ragazzi si possono vedere soltanto dal tema natale individuale nel gioco della classifica dei segni noi guardiamo ciò che vale per questa maggioranza teorica di milioni di esseri umani che hanno una dominante Granchio allora in questo grande insieme di Granchietti le parole più attribuibili sono quelle di un'estate serene tranquilla perché non avete energie contrarie non ci sono energie che vi rompono le scatole da nessuna costellazione in particolare per di più questo inizio mese leone vi porta ancora al favore del nostro mercurietto del nostro Hermes svolazzante che si trova proprio nella tua energia in estrema sintesi Hermes è collegato alle questioni della comunicazione dei contatti delle amicizie e anche del divertimento veloce quotidiano potremmo dire che uno slogan milanese molto mercuriale è il concetto dell'apericena quindi adesso tu non è che sei obbligato ad andare per forza a fare più aperitivi perché c'è Mercurio in Granchio probabilmente se le hai fatti di più è perché sono finite le regole del lockdown e quindi anche tu avevi voglia di uscire un po' di più da casa mentre di solito i granchietti se ne stanno i belli tranquilli a casa loro a fare i fatti loro però al di là di queste battute che ci servono per alleggerire tendenzialmente diciamo Mercurio è legato a tutto ciò che possono essere piccoli fatti di vita quotidiana piccoli spostamenti piccole comunicazioni mandate ricevute quindi da questo punto di vista potresti avere avuto dei favori e con grande significato è se tu per esempio lavori a partita IVA o sei un commerciante oggi come oggi potremmo dire che Mercurio è un po' il protettore di questo tipo di professioni che invece nessun altro protegge a partire dallo Stato italiano come abbiamo avuto grande dimostrazione in quest'anno pandemico dove tutti esistevano tranne chi fa lavori mercuriali quindi chi fa lavori diciamo non protetti direttamente dallo Stato e quindi tu magari in questo periodo sei stato un po' più favorito di altri soprattutto se fai però questo tipo di attività dobbiamo anche dire però che Mercurio nel suo viaggio tra le costellazioni tra poco ti saluterà e passerà poi nella tua costellazione vicina che è quella del Leone ma noi sappiamo che per te Leone e Virgo sono energie neutrali addirittura io direi nel mio sguardo anche un po' amiche quindi veramente ti dico che le parole chiave di questa tua estate sono un'estate serena e tranquilla quindi se tu non fai parte di quegli specifici esseri umani legati al granchio che per loro questioni personali stanno vivendo questioni più critiche io ti potrei dire di startene tranquillo di non essere tu il primo che amplifichi dei piccoli meno perché questo è un po' quel tuo lato della personalità che non ti fa godere di situazioni serene e tranquille quando ci sono non ne parliamo quando poi vivi proprio delle situazioni molto felici di cui tu addirittura tra virgolette hai un po' paura perché ogni tanto dentro di te è come se tu avessi paura di botte di felicità perché già ti fai la domanda sì ma quando poi questo passerà cosa succederà vorrà dire che siccome oggi sono molto felice di sicuro domani sarò molto infelice chiaro che se tu vedi tutto così diventa tutto critico io ti direi se oggi le cose vanno bene e c'è molto scritto in questa carta dell'estate che le cose continuino ad andare bene ecco mettici anche tu del tuo per farle andare ancora meglio siamo ormai sul podio quindi fermiamoci qualche istante sulla posizione numero 3 dove troviamo l'energia bilancia l'energia bilancia per me si trova in una situazione molto simile a quella del granchio diciamo leggermente più favorevole per una cosa che vediamo tra poco ma prima di tutto è molto simile perché per l'energia bilancia le energie dominanti del periodo e quindi quelle vergine quelle leone sono tendenzialmente neutrali e sempre qui nella mia visione anche amiche soprattutto quella leone quindi già solo da questo punto di vista anche per te potrei estendere lo slogan che abbiamo usato per il tipo granchio di un'estate serena e tranquilla no mi ripeto su tutte le eccezioni se hai saltato la clip granchio ti consiglio di andarla ad ascoltare così anche tu diciamo puoi recepire sempre se la cosa ti fa piacere un mio consiglio che è quello di dire quando l'oroscopo che riguarda milioni di persone è positivo io non devo cadere nel determinismo di dire allora a me deve andare tutto bene per forza perché come sappiamo questa equazione nei linguaggi astrologici che sono linguaggi simbolici non può esistere quindi ascolta anche la parte granchio per i dettagli quindi io direi prima di tutto è stata serena e tranquilla che potrebbe crescere sempre di più in positività energetica perché appena passato ferragosto arriva il tuo momento d'oro di quest'estate perché il tuo angelo custode la tua protettrice che è la famosa venere arriverà proprio a viaggiare nella tua costellazione nella quale resterà potremmo dire poi fino alla fine dell'estate e se per qualche motivo tu non hai ancora prenotato le vacanze o te ne puoi permettere due io certamente ti direi o di fare la seconda vacanza o di fare quella che ancora devi organizzare appena il tuo angelo custode arriverà a casa tua perché quello sembrerebbe proprio il momento migliore per te per esprimere la tua natura come immagini questa espressione che io uso di angelo custode è legata proprio all'energia più importante per noi nel nostro tema natale e non ci sono dubbi che se tu hai una dominante bilancia sei nato nel mese bilancia e tutte le altre cose che abbiamo detto per spiegare le dominanti il simbolo di venere è il simbolo più importante del tuo tema natale quindi quando tu hai una venere che viaggia nel cielo che ti diventa amica per un periodo limitato tu sai che quello lì per te potrebbe almeno sulla carta essere un periodo d'oro quindi vacanze dopo ferragosto e anche qui tu di sicuro le conosci a perfezione i significati della tua natura ammaliante e sensuale che sono tutti i significati che derivano proprio dal tuo angelo custode venere se tu ami giocare con i flirt estivi quest'anno che la tua venere ti viene a trovare un po' prima del solito ecco questo potremmo dire che è il significato migliore di come possiamo interpretare questa venere così amica e che potrebbe aprirti diciamo porte di un certo tipo mi fermo solo qui dicendo ti potrebbe aprirti soprattutto porte di camere da letto dove trovare dentro diciamo così corpicini che a te piacciono e non poco e quindi da lì potrebbero nascere poi grandi momenti di divertimento hot eccoci arrivati al podio il podio ve l'avevo già anticipato nella premessa quindi in qualche modo la sorpresa era già stata largamente svelata io nella mia classifica ho posizionato al numero 2 il leone e al numero 1 la virgo ma proprio per un gioco di equilibri perché nella totalità dei due mesi le energie armoniche alla vergine saranno lievemente superiori a quelle armoniche al leone ma io direi che la cosa migliore che potremmo fare veramente è dire che c'è un podio condiviso tra leone e virgo se avete sentito fino a qui quello che ho detto ci troviamo proprio con venere e marte che si muoveranno per la gran parte di questo di questo periodo in queste due energie quindi io direi che al numero 1 delle facilitazioni sempre per chi di voi è interessato all'argomento abbiamo facilitazioni relazionali dove proprio all'inizio di un'importante e bella relazione poi non sappiamo quanto durerà però noi intanto stiamo parlando dell'inizio potrebbe proprio essere in questo in questo periodo poi ad ognuno di voi giustamente questo periodo si potrebbe allocare in settimane diverse però qui come immaginate è solo il tema natale individuale che ce lo fa capire quindi anche in questo caso ti dico se questo argomento per te è interessante questo potrebbe essere un momento dove diciamo guardare insieme il tuo tema natale come sai per tutti voi ascoltatori di anima tv avete anche per il primo colloquio la famosa promo anima tv e quindi con contributi davvero molto molto competitivi potremmo parlare insieme per un'ora un'ora e mezza nel tuo tema natale vedrai che lì avremo tutto il tempo di scandagliare fino agli ultimi dettagli quello che potranno essere questi due mesi ma anche ovviamente tutti i mesi successivi poi alla fine dell'estate per di più dico proprio che al leone come sappiamo c'è qualcosa ancora che potrebbe rompere le scatole soprattutto qui ti rimando poi all'oroscopo dell'anno che trovi sempre nel portale di anima tv perché come sai questo in definizione massima viene chiamato un anno acquario l'acquario è il tuo opposto energetico quindi questo non è facile da caratterizzare in un periodo specifico dell'anno ma in tutto il 2021 a seconda poi del giorno in cui tu sei nato nel mese leone eccetera potresti ricevere qualche avversità da queste energie a te avverse della costellazione acquario questo però è un altro discorso che va fatto ad persona tolte le criticità che arrivano dall'acquario tu se sei dominato dal leone non hai nessuna energia veloce che ti romperà le scatole e anche qui io avevo messo proprio la virgo al primo posto perché la virgo non solo avrà più energie positive ma non ha neanche diciamo questi rompiballe che arrivano dall'acquario a poter fare qualche sgambetto più o meno significativo per il resto io ti direi a te leone a te virgo goditi l'estate goditi la vita il più che puoi perché per ognuno di noi il momento del nostro compleanno e soprattutto il mese nel quale lo facciamo è il mese subito successivo quindi per te leone se proprio ce l'hai tutte e due in questo periodo per te virgo hai il mese del compleanno tendenzialmente è il periodo più importante di tutto l'anno quando poi io lo vivo con una facilitazione energetica così come lo potrete vivere voi in quest'estate del 2021 questa è un'occasione assolutamente da non perdere soprattutto se io so che potrei decidere qualcosa di importante non solo per la mia vita annuale ma addirittura per la mia vita appunto per la mia vita in senso assoluto quindi veramente l'allenamento che mi sento di regalare a te leone a te virgo è quello di ricordarti di tutto ciò e di non perdere questo giro della ruota perché un giro della ruota soprattutto per energia virgo molto molto amico siamo giunti quasi alla conclusione dello stellometro dell'estate 2021 ti ringrazio per aver trascorso questi minuti in mia compagnia mi auguro di averti dato spunti operativi interessanti scrivi nei commenti cosa ne pensi di quello che ti ho raccontato e condividi con chi vuoi questo video clicca sul pollicione del mi piace con un semplice gesto mi aiuta a sapere che hai apprezzato il mio lavoro e questo è molto importante per me ecco il mio regalo per te scrivimi un whatsapp con il codice promo web ci conosceremo personalmente e ti aiuterò a far sbocciare dal tuo tema natale i talenti più belli offrendoti un colloquio individuale a un contributo davvero speciale stiamo per salutarci e voglio farlo offrendoti due strumenti che tu potrai usare per canalizzare al meglio le energie dell'estate 2021 l'immagine guida e il mantra positivo l'immagine guida di quest'estate non poteva che essere l'arcano dei tarocchi dedicato proprio a festeggiare e a godere e io per di più direi ad utilizzare nel modo più consapevole la luce del nostro sole interiore quella luce che in realtà molte volte noi cerchiamo all'esterno e che in realtà per sincronicità con il sistema solare così com'è la struttura della psiche umana ognuno di noi ha dentro di sé l'estate dovrebbe proprio essere dedicata da un punto di vista spirituale al ricontattare nel modo migliore il nostro sole interiore e a farlo brillare nel modo migliore nel modo più luminoso tu potrai fare sempre meglio e sempre di più quello che ti ho appena raccontato anche proprio permettendoti di meditare qualche minuto al giorno su questa immagine imparando ad osservarla imparando a parlare con lei e ascoltando i consigli che questo arcano vorrà darti proprio con l'obiettivo di innalzare sempre di più il tuo livello di consapevolezza di amore per te stesso e di autostima insieme alla meditazione sull'immagine guida di quest'estate quando avrai piacere di farlo potrai anche recitare il positive mantra che trovi qui scorrere sotto i tuoi occhi leggiamolo per la prima volta insieme io sono pienamente ottimista sul mio futuro ed emano dei raggi di luce luminosissimi sulle persone che amo siamo giunti alla conclusione dello stellometro dell'estate 2021 non mi resta che augurarti dal più profondo del cuore un'estate eccezionale e quindi felice estate felice vita danilo